L'amministrazione comunale di Torre del Greco ha la ricerca di soggetti interessati ad organizzare eventi da inserire nel palinsesto natale da favola, via all'avviso pubblico per la manifestazione di interesse. È intenzione del Comune di Torre del Greco realizzare nel periodo di dicembre alcune iniziative che nell'ambito delle festività natalizie rappresentino un momento saliente delle attività culturali e turistiche del territorio. I soggetti interessati dovranno presentare progettualità ed iniziative sulle tematiche a tema. Si legge così nell'avviso a firma della dirigente ad interim della UO Cultura, eventi, turismo e marketing territoriale Claudio Sasso a seguito della determina del 3 novembre. In particolare saranno finanziate serate, minimo 13, dedicate ai cori gospel, orchestra internazionali, concerto bandistico e street band, gruppi folk, concerti di musica natalizia, concerti itineranti, zampogna e o orchestra che avranno come location luoghi di culto, parrocchie, centri di aggregazione sociale, strade e o piazze cittadini del centro e della periferia. Poi saranno finanziate serate, minimo 5, per animazione a tema Il mondo delle favole e o personaggi Disney con strutture e allestimenti scenici a grandezza naturale, artisti di strada, water bowl, acrobati e tessuti aerei che avranno come location le vie dello shopping. Infine saranno finanziate proiezioni e o video mapping. Proiezioni a tema natalizio che abbiano particolare rilevanza sociale, culturale o turistica in almeno due siti cittadini rispettivamente del centro e della periferia. I proponenti, muniti dalle necessarie autorizzazioni, possono prendere in considerazione anche sfondi di proprietà comunale o luoghi e strade cittadine del centro e della periferia. Per info e dettagli è possibile consultare l'avviso sul sito istituzionale del Comune.